Via! Via! Madonna Santissima! Via, per favore, via! Patrizia! Filippo! Fuori! Incredibile, di drammatico! Madonna! E' pazzesco! Incredibile! Correte! 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 Madonna Santissima! Guarda come si muove! Ma è rimasto qualcuno dentro! Fuori! Chi c'è? Chi c'è? Via! Fuori di qui! Passate dai pazzi ancora a rimanere! Fuori! Siamo qui! Siamo qui! Madonna Santissima! Vi sta camminando tutto il cavolo! Tocano! Via, via, via! Vai, via, via! Vai, via, via! Via, via, via! Madonna che sta venendo adesso ragazzi! Patrice, vieni qua, 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 fuori! Dobbiamo domandare un decisivo. E' su quella banca, e' su quella banca. Fate sgomberare il gioco della zona della banca! Ragazzi! Sgomberate dalla zona della banca!